Ciao, sono Andrea, ho 39 anni, vivo a Roma, dove lavoro come autista, per motivi di lavoro sono da solo, però sono sposato con figli, piccoli, e come hobby suona la tastiera, per questa occasione vorrei interpretare un pezzo dal folclore abruzzese che si chiama Faremo pace, scritto dal maestro Tommaso Coccione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.